Improvvisamente ti accorgi di che ti sta crollando il mondo addosso perché sei all'insaputo di ciò che qualcuno ti sta tramando alle spalle, questo nella qualità dell'equitalia praticamente, perché ho saputo soltanto in banca, mentre stavo per fare un mutuo, che non era più possibile fare questa cosa qui perché praticamente qualcuno, otto mesi, nove mesi prima, a mia insaputa, aveva posto pignoramento immobiliare. Lei aveva già acceso ed estinto un altro mutuo per portare avanti l'azienda? Certamente, tutto a buon esito, con tutti i sacrifici, però pensavo di essere pulito di questi debiti, di questi problemi, mentre alla fin fine niente, poi parlandone pure con la banca, la banca non ti dà più un centesimo se c'è l'equitalia che ha messo il pignoramento, quindi in pratica ti ritrovi senza nessuno che ti può aiutare a fare fronte a questi problemi grossi che ci sono, quindi alla fin fine si andrà a finire, chissà come, non lo sappiamo. Sono sull'astrico gli agricoltori tarantini, 356 aziende sono già all'asta e altre centinaia hanno ricevuto dalla Equitalia, la società pubblica incaricata della riscossione dei tributi, l'avviso di ipoteca sulla propria attività. Questa mattina il Tavolo Verde ha ancora una volta ribadito le proprie posizioni. Da due anni alla Puglia è stato riconosciuto lo stato di crisi, eppure non arrivano i fondi dal governo, una boccata d'ossigeno per gli agricoltori piegati dalla sempre più pesante richiesta di rientro del credito da parte delle banche e dall'annosa situazione debitoria nei confronti dell'Inps. Chiedere a moratori non significa non voler pagare, perché questa vulgata va chiarita. Gli agricoltori vogliono pagare, vogliono pagare ciò che è giusto e vogliono le condizioni per poter pagare. Perché? Perché ad oggi noi siamo aggrediti da banche che chiedono interessi da usura, lo dice il governatore, lo dice un parlamentare della maggioranza che ha fatto l'altro giorno un esposto denuncio alla Procura di Lecce contro le banche che praticano interessi da usura. E quindi noi ci rifiutiamo di pagare interessi da usura, ci rifiutiamo di pagare cartelle pazze che l'Inps ha emesso. E l'Inps sul nostro ricorso ha dovuto riconoscere che c'erano cartelle sporche che ripulite, le hanno ripulite per centenari di migliaia di euro. Quindi noi vogliamo pagare ciò che è giusto. Il clima è incandescente in tutto il sud Italia. Nel corso delle assemblee hanno ribadito i rappresentanti di categoria, fioccano con maggiore frequenza le parole rivolta e fame. Alla crisi si aggiungono le richieste di tributi per servizi non erogati. L'esplicito riferimento è al Consorzio Stornara e Tara, del quale hanno chiesto la destituzione del commissario attraverso una raccolta di firme. Intanto venerdì prossimo gli agricoltori meridionali si incontreranno a Roma. Chiederanno al Presidente della Repubblica di costruire le condizioni per uscire dalla crisi, per impedire le vendite all'asta degli aziende che certamente non vengono acquistate da altri agricoltori, ma da personaggi che nulla hanno a che vedere con la coltivazione della terra, che procurano denaro sporco. E lunedì i tarantini denunceranno le singole situazioni all'ufficio anti-usura.